ehi scalmanati siete pronti per il nuovo evento di halloween la furia dei dannati sarà in vigore dal 7 ottobre fino al 4 di novembre e riserva tante belle sorprese esatto perché affrontando delle sfide si otterranno dei favori che ci garantiranno questi fantastici premi per la prima volta su seo tears ci sarà la prima sfida globale in cui per ottenere queste due favolose polene bisognerà unire le forze di tutti i pirati in poche parole o li otteniamo tutti o nessuno per prima cosa vi consiglio di fare alleanza conviene a tutti perché ci garantirà punti doppi tra i favori minori abbiamo la possibilità di recuperare una fiamma del fato dal traghetto fare miglia con le fiamme del fato sulla nave affondare le navi scheletro fondare le navi fantasma uccidere i fantasmi uccidere i capitani scheletro e vendere i bottini dei forti scheletrici infine non meno importante l'uccisione degli scheleti ombra per guadagnare un bel po di favori vi consiglio ogni giorno di compiere le imprese giornaliere sconfiggete la nave ammiraglia di flame art ed infine l'uccisione dei signori degli scheletri ma se potete fatelo al forte della fortuna perché li troverete tutti e tre per un'enorme quantità di favori uccidete i signori cinerei e sconfiggete il fantasma del pirata grey marrow al forte dei dannati a proposito quasi dimenticavo se non sapete come affrontare alcune sfide che vi abbiamo proposto in descrizione inseriremo alcuni link dei tutorial del nostro canale allora ricapitolando per prima cosa fate alleanza per ottenere favori doppi e poi il miglior modo per fare punti è quello di completare il forte della fortuna e il forte dei dannati sul gruppo facebook noi scalmanati ci stiamo già preparando a questo evento cosa aspetta di unirti a noi a presto grazie a tutti grazie a tutti